Siamo con Raffaella Iovine, responsabile del gruppo archeologico dei Campi Il Flegrei. Siamo di fronte alla Fescina, finalmente possiamo dire che vediamo la Fescina. Ci è voluto tanto tempo e soprattutto la coordinazione di diverse forze, fra l'autorizzazione del commissario e diverse ditte che stanno collaborando con voi per la pulizia dell'area. Finalmente possiamo dire, finalmente un giorno di festa per tutto il paese, poiché questa pulizia era attesa da anni. Se facciamo una breve ricerca in internet, troviamo anche che sull'Espresso il sito viene segnalato come bene da salvare. Come gruppo archeologico abbiamo preso a cuore questa situazione perché è anche tra gli scopi del gruppo archeologico, gruppo archeologico in questo caso dei Campi Il Flegrei, del quale sono rappresentante legale. Come scopo abbiamo quello di valorizzare e rendere fruibile le aree archeologiche. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alla soprintendenza, alla dottoressa Teresa Elena 54 e alla dottoressa Costanza Gialanella dell'ufficio scavo di Pozzuoli, di poter accedere all'area per effettuare una pulizia dei resti archeologici. Questa autorizzazione ci è arrivata il 30 settembre 2011, dopodiché abbiamo, attraverso vari incontri fatti al Comune, avuto l'autorizzazione grazie al commissario straordinario, dottor Vincenzo Greco, il quale da subito ha dimostrato una profonda disponibilità e una profonda sensibilità per la pulizia dell'area che, sapete tutti, aveva una copertura di rovi, di spine, alta quasi due metri. Non ti sembra paradossale che in tanti anni la politica non vi sia riuscita mentre è bastata l'autorizzazione di un commissario, profettiti? Noi siamo un gruppo di archeologi, quindi è nell'interesse dell'archeologo quello di rendere fruibile al pubblico, alla cittadinanza, alle scolaresche un bene che insiste su un territorio che sembra non avere storia, invece ce n'ha tantissima. La necropoli qui alle nostre spalle è detta Fescina, è del primo secolo a.C., presenta un opus reticulatum bellissimo. Che cos'è? È una necropoli, quindi necropolis, città dei morti, che è stata utilizzata più o meno fino al IV-V secolo d.C. La forma è il particolare, si trovano dei confronti solamente in ambito alessandrino, quindi l'idea di costruire un mausoleo con questa forma a piramide proviene dall'Alessandra d'Egitto. Sicuramente c'è stato qualcuno che è stato lì, ha visto questa struttura e poi ha voluto riprodurre questa struttura vicino alla propria abitazione perché nelle carte archeologiche viene segnalata una villa rustica proprio alle spalle della necropoli. Quali saranno i prossimi passi del tuo gruppo archeologico? Cioè quando sarà fruibile la struttura al pubblico? Noi speriamo quanto prima. Stiamo comunque in contatto con la sopraintendenza, faremo a breve un sopralluogo per avere il parere in merito. Però speriamo che quanto prima l'area possa essere accessibile al pubblico e fare delle visite guidate con una cadenza mensile. Vediamo di concordare comunque un programma sia con la sopraintendenza che col Comune e anche con l'Istituto Pennese di Portici che in realtà è il proprietario del bene. Il Comune di Quarto ha un comodato d'uso gratuito per nove anni.